Pubblicato il bando per scegliere il brand del progetto di rigenerazione urbana di Montalto delle Marche, Borgo Pilota per la Regione Marche. Ne parliamo oggi con il sindaco Daniel Matricardi. Ancora tempo fino al 10 maggio per partecipare a questo bando di concorso che abbiamo pubblicato, proprio per dare un'immagine al nostro progetto pilota per la Regione Marche, nella linea del bando Borghi. e attraverso questa azione vogliamo trovare l'immagine più idonea per rappresentare questo processo di cambiamento che stiamo iniziando grazie a questa grande opportunità di questo progetto. Abbiamo voluto fin da questa prima azione coinvolgere il più gran numero di persone, infatti il bando ha un'estensione nazionale, stiamo avendo riscontro da tutta Italia per la partecipazione e questo ci rende sicuramente felici di questa cosa. Vogliamo coinvolgere anche la popolazione che sarà chiamata in una fase del progetto a valutare anche le proposte che arriveranno. Iniziamo così questo percorso, lo iniziamo con questo modo anche di coinvolgimento. Sindaco, come Comune avete anche ottenuto un contributo per l'efficientamento energetico di tre edifici. Sì, grazie a alcuni fondi del CSE abbiamo ottenuto importanti finanziamenti, un totale quasi di un milione d'euro per l'efficientamento di tre edifici comunali su cui avevamo già avviato altre progettualità. Queste risorse si vanno ad aggiungere ad altri che abbiamo ottenuto attraverso la partecipazione di bandi che ci sta permettendo ma in mano di mettere in atto un processo veramente importante di riqualificazione di tutto il nostro tessuto urbano. Quindi si vanno ad aggiungere agli finanziamenti del PNRR, a quelli del PNRR complementare del Sisma e a tutti gli altri fondi proprio specifici del Sisma con cui stiamo recuperando gli immobili danneggiati. Un grande processo di riqualificazione del Comune, comprese tutte le frazioni e il territorio ampio che vedrà nei prossimi anni veramente una grande trasformazione. Sindaco, abbiamo ancora qualche minuto, c'è altro che vuole aggiungere? Sì, stiamo nel frattempo portando avanti l'altro grande progetto del Comune di Montalto Marche che è Eva, eccellenze Valle dell'Aso, che vede la costruzione di un polo agroalimentare. Proprio in questi giorni è pubblicato l'avviso per la partecipazione alla gara per i lavori. Abbiamo un bel progetto esecutivo curato dall'architetto Enzo Sebi che sarà un processo anche questo molto partecipato perché oltre alla costruzione fisica del luogo avverrà un processo di partecipazione per la costruzione della governance di questo luogo e delle dinamiche che si andranno a scaturire all'interno che oltre a dinamiche di produzione, trasformazione, stoccaggio dei prodotti della valle avrà anche affiancato tutta una parte riguardante la formazione, la ricerca quindi sicuramente è un progetto molto ambizioso di cui andiamo molto fieri. E in particolare chi coinvolgerà questo progetto? Il progetto coinvolgerà sicuramente le aziende agricole del territorio ma poi coinvolgerà le università, gli vari enti e istituzioni che potranno sicuramente dare un contributo e anche i comuni della valle dell'Aso perché secondo me è giunto veramente il momento che si faccia una grande sinergia territoriale per quanto riguarda la valorizzazione della nostra valle dell'Aso. Grazie al sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.